Ciao Popoleleca Nerd, bentornato a un nuovo appuntamento con Popcore Time, la nostra rubrica del giovedì dove scopriamo insieme tutte quelle che sono le novità in uscita questa settimana, quindi tutti i nuovi film, i nuovi titoli che trovate da oggi al cinema. Settimana abbastanza particolare soprattutto per un titolo molto molto chiacchierato e soprattutto molto molto atteso, titolo che io ho visto in anteprima a Venezia e che insomma sono un po' di mesi che se ne parla perché prima dovevo uscire, poi non dovevo uscire più, poi come lo facciamo uscire, come non lo facciamo uscire, insomma quando si parla poi di questo regista c'è sempre un po' di polemica e inevitabile. Ovviamente sto parlando della casa che Jack ha costruito di Lars von Trier, il nuovo film di Lars von Trier, il grande ritorno al cinema di von Trier. Fatemi sapere prima di tutto se mi vedete, se sta andando tutto bene la live, questo ovviamente è l'importante ma credo proprio di sì, solo l'anteprima a me non la fa vedere, però vabbè anche sti cazzi direi. Quindi grande ritorno di Lars von Trier, grande ritorno di Lars von Trier soprattutto a Cannes perché il film appunto è stato presentato in anteprima lo scorso anno nella sezione fuori concorso al festival del cinema di Cannes. Grande ritorno di von Trier perché in realtà lui era stato quasi cacciato da Cannes dopo che l'ultima volta che era andato aveva portato, sapete lui è un regista molto provocatorio, aveva iniziato a dire cose sul nazismo, uscirsene con appunto saluti nazisti. Non aveva fatto proprio una bellissima figura, ecco diciamo così, Cannes che è molto rigorosa, un po' molto impettita, se ne dispettita, ha fatto sai che c'è von Trier, noi tipo andiamo per sempre da Cannes e tu non potrai mai tornare mai più. E invece l'anno scorso è tornato con questo film davvero davvero molto interessante, appunto che ha avuto una distribuzione molto particolare. La finestra si è ammossa, avevo paura che stava per sbattere tutto quanto, molto bene. Dicevo che ha avuto una gestazione estremamente particolare perché appunto non sapevano come distribuirlo, perché è un film estremamente violento, un film estremamente contorto. Ed è un film che appunto parla di questa scesa e discesa di un serial killer. Serial killer interpretato da Matt Dillon e a un certo punto tutto il film sembra diventare un po' come l'Inferno di Dante, film diviso in tappe, anzi in capitoli, che appunto ogni capitolo è nominato con quello che è il percorso che farà poi questo serial killer. In primo luogo quello di scoprire appunto la sua vena omicida, di iniziare ad affinare il metodo e perché proprio questo titolo, la casa che Jack ha costruito? Non vi faccio spoiler, però diciamo, parliamo di serial killer, parliamo di gente che non sta benissimo. Con la testa vi lascio immaginare con che cosa Jack stava costruendo questa casa. Dicevo, il film alla fine arriva oggi in sala, arriva oggi con una distribuzione ovviamente un pochino più piccola, ma soprattutto, insomma, non arriverà in tantissime copie, ma soprattutto è vietato ai minori di 18 anni e si troverà in sala in due versioni. Una versione inevitabilmente censurata e una versione non censurata. Trovo ridicolo, io trovo ridicola la censura a prescindere quando si tratta di cinema, perché voglio dire, è ovvio che nessun genitore sano di mente porterebbe a vedere un film di Fontrier a suo figlio. Ora, parliamoci proprio papale papale e chiaramente, però è assurdo farlo uscire sia in versione censurata che non censurata. Cioè, ma chi se lo va a vedere censurato quando sa che c'è la versione non censurata? Probabilmente sicura, anzi, senza probabilmente, sicuramente nella versione non censurata ci saranno molte, molte meno copie. Però ragazzi, sinceramente per me è letteralmente ridicolo, ecco appunto, già la censura è ridicola, però dividere in questo modo un film è ancora peggio. Comunque, il film, sinceramente, allora, se siete dei fan di Fontrier vi consiglio di andarlo a vedere. Per me è proprio Fontrier all'ennesima potenza, è letteralmente un'orgia per quanto di immagini, di divisioni, è un film estremamente simbolista, è un film che ha metafore su metafore e un percorso che, ripeto, strizza l'occhio alla divina commedia, ma anche a livello di immagine, di estetica, sembra di trovarsi di fronte a dei veri e propri affreschi. C'è una cura nell'immagine, credo che sia tra l'altro uno dei film più curati di Fontrier sotto questo punto di vista, ecco, c'è una cura quasi maniacale in quello che ha fatto. E inoltre, inoltre, a livello di storia, ovviamente, probabilmente uno dei film, non dico più, sì, no, sì, lo dico, è uno dei film più estremi di Fontrier, perché, appunto, c'è della violenza, violenza che ha fatto un po' chiacchierare, spaventare, addirittura a Cannes la gente si alzava e se ne andava, perché era fortemente turbato, ovviamente, un film disturbante, voglio dire, è abbastanza normale, basta che vi guardate il trailer e già capite tutto. Poi, tra l'altro, non c'è solo Matt Dillon, c'è un po' tutta la cricca degli amici di Fontrier, c'è anche Uma Thurma, ci sono tante, tante citazioni. Dillon è l'ultimo film in cui, tra l'altro, ha recitato Bruno Gans, che sapete, è morto da pochissimo, e lui ha anche un ruolo molto particolare, anche perché poi c'è questo protagonista, che sembra quasi che stia sentendo delle voci, poi, invece, è come se fosse in terapia e, praticamente, è come, appunto, se lui stesse facendo un percorso, e quella voce che lo conduce è letteralmente il suo Virgilio, ecco. Quindi, ripeto, è un film che ha una costruzione scenica, ma anche narrativa, di struttura, molto, molto interessante. Poi, certo, è un film che è ovvio che fa venire un po' di mal di stomaco, se siete, soprattutto, cioè, se siete super, iper, mega sensibili, io vi consiglio, assolutamente, di non andarla a vedere, perché, a parte che, poi, non vi piacerà nemmeno, cioè, non dovrebbe rispecchiare il vostro genere, ma, al tempo stesso, vi può turbare parecchio. Io, sinceramente, non mi sono sentita, poi, così tanto disturbata, anzi, però, c'è da dire che è un genere che a me piace, piace moltissimo, questo qui di, a parte che mi piace Ralph Fonterier, non tutti i film, cioè, non è uno dei miei registi preferiti, ma l'apprezzo parecchio. Questo film, mi ci sono ritrovata molto in questo film, mi piace anche il percorso psicologico che si fa, poi, con Matt Dillon, Matt Dillon è estremamente bravo, bravissimo, anzi, e non deve essere stato neanche facile per lui interpretare un ruolo di questo tipo, di questo genere, perché, comunque, e stiamo parlando di un serial killer, veramente senza scrupoli, che non ha nemmeno, davvero, modus operandi ce l'ha, ma non ha nemmeno un target definito, quindi, va dalla donna più giovane, a quella meno giovane, all'uomo, al bambino, e c'è una scena, appunto, che quella, forse, ce ne sono un paio, che sono particolarmente violenti, e che, appunto, hanno fatto indignare tutti, perché c'erano dei bambini di mezzo. Ripeto, io non mi sono particolarmente sentita ferita, ero molto più presa dalla fascinazione del tipo di film, del tipo di immagine, perché, ovviamente, obiettivamente, considero un film molto violento e molto disturbante, appunto, e, cioè, vedevi piace, non è che è una novità che Funtrier fa film per scandalizzare, anzi, il più delle volte, la violenza in questo genere di film, o il ragionamento contorto, che sembra non avere praticamente senso, sono estremamente voluti, proprio perché devono essere delle estreme provocazioni, uno può anche dire che siano delle provocazioni gratuite, ma, ripeto, parliamo di un regista che ha sempre fatto film di questo tipo, non è la prima volta, non sarà l'ultima volta, ha fatto film decisamente più spinti, o penso a un Antichrist, così come ha fatto film decisamente più leggeri, un melancolia, ecco, film un po' più nel mezzo, nincomaniac, Dancing in the Dark, ha fatto dei film meravigliosi, voglio dire, Funtrier, però non è un regista, cioè, non è tipo quello che dici, ah, è un regista che andrà a vedere il sabato pomeriggio alle 4 prima del tempo, no, decisamente no, è tutt'altro genere, tutt'altro tipo di regista, io non so se siete voi taciturni, che può essere, ci sta particolarmente tanto, o semplicemente la mia dashboard che non dà segni di vita, io adesso ho riavviato, ah, ecco, probabilmente era la mia dashboard che non dava segni di vita, e adesso ho fatto un casino, già lo so, e perché adesso vedo anche la mia anteprima, mentre prima non la vedevo, quindi se avete scritto qualcosa prima, mi sono persa tutti i messaggi, li posso recuperare dopo, perché adesso ovviamente non mi carica se avete scritto qualcosina prima, insomma, in caso, se avete dei dubbi, delle domande, fatemele adesso, e poi, insomma, dopo le recuperiamo, mi dispiace, però in effetti non era partita assolutamente l'anteprima, quindi non so come mai, a maggior ragione, non vedevo nessun commento, poi magari non mi avete cagato di pezza, e questo ci può stare, insomma, ci può stare, ci può stare. Allora, andando avanti, quindi, insomma, la casa di Jack, anzi, in realtà il titolo italiano è la casa di Jack, io l'avevo tradotto totalmente al titolo in inglese, che è la casa che Jack ha costruito, perché The House that Jack built, e invece no, in italiano, è semplicemente la casa di Jack. Da oggi al cinema, insomma, un bel mattone interessante, contorto, e che vi farà rizzare i peli dalle brascia, dalle brascia. Andando avanti, allora, andando avanti, invece, un altro film particolare che esce oggi al cinema, non so se è un evento, no, no, dovreste trovarlo, insomma, programmazione normale, come tutti gli altri film, quindi non lo trovate solo per otto giorni, oggi al cinema esce Dragon Ball Super Broly, appunto questo film d'animazione, ovviamente, di Dragon Ball, che si ispira alla saga di Super, che sinceramente io non ho visto, perché io con gli anime sono arrivata a Dragon Ball GT, quindi poi, mea culpa, non sono andata avanti, film distribuito da Coach Media, storia scritta apposta, proprio per approfondire il personaggio di Broly, che è un personaggio che piace in realtà a moltissimi, caratterizzarlo ancora di più, e dare anche un'origine un po' diversa, perché letteralmente un'origine story, un'origine un pochino diversa da quella che conosciamo, al pianeta Vegeta, quindi anche alla storia di Goku, Kakarot, di Vegeta stesso, il principe Vegeta, insomma, e di Broly, quindi parte praticamente dal passato, ed è molto molto bella questa sequenza iniziale, con Freezer piccolo, insomma, ancora giovane, che il padre lo mette appunto, gli regala il regno di, il pianeta Vegeta, e poi Freezer un giorno dice, sei che c'è, a me non me ne hai fatto più un cazzo, le super saiyan, poi c'ho paura di questo super super saiyan, no no no, io faccio fuori tutto quanto, e a salvarsi praticamente sono pochissime persone, tra cui appunto Broly, che era già stato mandato via da Vegeta, nella sua piccola sfera, e Kakarot ovviamente, Goku, e anche Vegeta, che in quel momento era in missione con altri saiyan. La storia poi riprende praticamente, dopo un bel po' di anni, c'è questo bellissimo andare avanti, dove vi fa vedere tutti i combattimenti storici, quindi lì parte subito la lacrimuccia, effetto, effetto nostalgia, quindi, con tutti i super Freezer, Cell, Majin Buu, tutti i super, iper, mega grandi combattimenti, il torneo che ci sono stati, e arriviamo in un momento abbastanza di pace, dove ci sono Goku e Vegeta, che si stanno allenando, ma che poi appunto, vengono richiamati, cioè vengono attirati da Freezer, che è stato portato in vita da Goku stesso, per una serie di motivi che non vi dico, basta. Interessante, veramente molto figo, non l'avrei mai detto, ma non perché non mi piace Dragon Ball, anzi, Dragon Ball mi è sempre piaciuto tantissimo, semplicemente perché appunto, non avendo seguito la saga di Super, ho pensato, adesso non capirò praticamente nulla di questo film, invece sono stati molto furbi, perché appunto, è un origin story, quindi da quel punto di vista, cioè, ovviamente dovete conoscere un minimo, della storia di Dragon Ball, ma penso che, chi non lo conosce, non andrebbe nemmeno al cinema, probabilmente a guardarlo, però non c'è bisogno appunto, di aver seguito la saga di Super, per il film si fa capire molto bene, così com'è, e di questo, sono stata molto, molto contenta, l'ho trovato veramente un lavoro, molto molto valido, sarò, sarò sincera, quindi mi ha sorpreso, ancora di più, distribuito da Coach Media, l'elemento che più mi è piaciuto, sinceramente, è l'animazione, perché l'animazione è veramente, molto, molto bella, soprattutto l'intenzione, nei combattimenti, che sono super, iper, mega pompati, quindi, mi fanno salire un mega hype, mi piace molto, come sono riusciti a caratterizzare Broly, senza però, snaturarlo, proprio perché, è molto amato Broly, ma secondo me, gli hanno dato, un approfondimento psicologico, molto più profondo, cioè, fanno capire anche, perché Broly, è diventato, quello che è, insomma, quindi, sotto questo punto, anche sotto questo punto di vista, questo tipo di approfondimento, che non è tipico, comunque, di Dragon Ball, perché è sempre stato, molto leggero, per quanto riguarda, le caratterizzazioni, l'ho apprezzato tantissimo, e ripeto, l'animazione, secondo me, è veramente grandiosa, veramente fatta bene, i combattimenti, proprio, ogni pugno, ogni calcio, ogni onda energetica, sono veramente, hanno un iper, mega hype, e c'è un'intenzione, veramente, molto, molto intensa, quindi, di questo, questo mi ha sorpreso, mi ha fomentato, mi è piaciuto, veramente, tanto, se devo trovare, un pochino, il pelo nell'uovo, sarò sincera, quello che, meno, mi ha entusiasmato, di tutto, di tutto ciò, e che, praticamente, non, c'è un marcato, effetto nostalgia, che per carità, ci può pure stare, però, secondo me, ha un'ingenuità, un pochino, troppo, nostalgica, strizza un attimino, troppo l'occhio, agli anni 90, e, soprattutto, è vero, che Dragon Ball, è sempre stato caratterizzato, da battute, gag, e cose di questo genere, secondo me, in questo caso, hanno marcato, un attimino, troppo, la mano, ci sono anche, delle motivazioni, che spingono i personaggi, a fare alcune cose, in particolar modo, poi, con Freezer, che, secondo me, sono un po' troppo ridicole, a tal punto, da diventare, quasi, imbarazzanti, secondo me, sotto quel punto di vista, si sono lasciati, un pochino, troppo, prendere, la mano, potevano, non si sono fermati in tempo, sono andati, un attimino, oltre, però, diciamo, appunto, ripeto, è un po' un pelo nell'uovo, non è proprio, una cosa, c'è a chi può piacere, secondo me, nel complesso generale, ruba anche spazio, a una narrazione, che, invece, è molto più approfondita, del solito, e che, quindi, poteva dare, decisamente, di più, poi, per carità, il film è fatto, per tre quarti, di combattimenti, questo scontro epico, è intenso, che vi dà, grande soddisfazione, insomma, se lascia guardare, con estremo piacere, con, con estremo interesse, ecco, quindi, quindi promuoviamo, promuoviamo Dragon Ball, sento, caldamente, insomma, di, di consigliarvelo, quindi, 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 andatelo a vedere, andatelo a vedere, Gianluca mi dice, vedo gli effetti di Vanya, su, lol, su di te, c'è qualcosa, di molto naturale, nel mio sguardo, oggi, lo so, lo so, allora, tra l'altro, in realtà, ce l'ho io, quelle lenti a contatto, che ha Vanya, quelle che sono, veramente, estremamente, estremamente, posticce, posticce, queste sono, un pochino, più naturali, pochetto, pochetto, più naturali, rispetto a quelle, di Vanya, che sono, letteralmente, ghiaccio, adesso, invece, cambiamo, totalmente, genere, e facciamo, vi parlo, di una cosa, molto più, briosa, molto più divertente, simpatica, che esce oggi, al cinema, che non mi sarei mai aspettata, da questo film, un sequel, sarò sincera, perché, tra l'altro, non l'ho visto, però, insomma, visto che ho visto il primo, mi sento di consigliarvelo, perché, molto probabilmente, andrò a vedere il secondo, purtroppo, non ho visto l'anteprima, perché era, il lunedì, del giorno dopo gli Oscar, ero veramente distrutta, stanca, quindi, non avevo proprio, la forza, di andarmi a vedere, un film, in quel momento, sto parlando, di ancora, auguri per la tua morte, appunto, sì, quel di, auguri per la tua morte, uscito lo scorso anno, questa, commedia, questa sorta, di slasher movie, molto moderno, in realtà, questa commedia horror, abbastanza simpatica, della Blue Mouse, di Jason Bloom, che ha avuto, anche, tra l'altro, un discreto successo, e che si basa, ne abbiamo parlato, l'altra volta, avevo citata, nel parlare, in Binge Stream, di Russian Doll, e che si basa, appunto, su, il loop, il classico loop temporale, insomma, in stile, il giorno della marmotta, con la differenza, che questa poraccia, la nostra cara protagonista, il giorno del suo compleanno, viene uccisa, quindi, è destinata, a rivivere, ogni giorno, il giorno del suo compleanno, ma non solo, a rivivere, anche la sua morte, e la sua morte, ed è abbastanza brutale, perché, appunto, è sempre, quasi sempre, per mano, di un serial killer, quindi, per poter, riuscire, a interrompere, questo loop temporale, deve capire, prima di tutto, chi è che la vuole ammazzare, secondo motivo, perché la vuole ammazzare, e anche una time bomb, abbastanza intensa, perché, in realtà, pure in questo caso, non è che il loop temporale, può andare avanti, all'infinito, lei, ogni volta che muore, quindi, per dire, se quello, gli fracassa la testa, lei, ovviamente, tornerà normale, quando si risveglia, però, all'interno, il trauma cranico, ce l'avrà, quindi, se lui la pugnala al cuore, lei, un problema, un bel bugazzo, così, al cuore, ce l'avrà, le costole rotte, le resteranno, anche se poi, apparentemente, cioè, dall'esterno, non si vede nulla, ma poi, lei si fa una lastra, perché, in realtà, non mi ricordo, nemmeno per quale motivo, comunque, si vede che, lei ha questi traumi, tanto che il dottore, dice, non capisco come tu faccio ad essere ancora viva, cioè, probabilmente, c'è stato un errore, e a quanto pare, invece, lei, che finalmente era riuscita, non vi dico niente, perché, se non avete visto il primo, recuperatelo, lei, che era riuscita, finalmente, a capire chi voleva ucciderla, e come mai, quindi, esce da questo loop, assurdo, molto frustrante, a un certo punto, in realtà, inizia a prenderci anche un po' la mano, fa delle cose anche abbastanza simpatiche, e invece, a quanto pare, l'incubo non è finito, perché, appunto, ancora, auguri per la tua morte, e, e tra l'altro, a quanto ho capito dal trailer, lei non solo era andata avanti con la sua vita, ma, quando viene riuscisa, ritorna nuovamente al punto di partenza, quindi, a quel famoso compleanno, devastante, devastante poraccia, perché, cioè, a me è venuta non poca angoscia, perché, tra l'altro, lei ormai si era fidanzata, con questo qui, che l'aveva aiutata tantissimo, e invece, poi, la frustrazione, che ti svegli, e questo manco ti riconosce più, oddio, che angoscia, che ansia, era molto simpatica, insomma, una commediola, adesso, definirla, eh, horror, thriller, è veramente, una presa per i fondelli, non è né horror, né thriller, però, sicuramente, ha un aspetto, un po' di suspense, un po' particolare, però, è più che altro, cioè, per me è una commedia horror, appunto, è proprio un tipico, slasher movie, secondo me, protagonista è Jessica Rota, che è veramente, molto molto brava, sarò sincera, mi aveva sorpreso nel primo, sono sicura, che mi sorprenderà anche nel secondo, c'è da dire che, ripeto, non me l'aspettavo, questo secondo, quindi, lungi da me, dare un giudizio, senza aver visto un film, però, non vedo il senso, ecco, secondo me, è il fatto che possa rivelarsi, poi, una grande cagata, è abbastanza probabile, è abbastanza certo, ecco, però, noi andiamola a vedere, perché il primo, c'era piaciuto, quindi, la curiosità, anche di vedere il secondo, sinceramente, c'è. Cecilia, poi dice, bene, per il mio compleanno, direi che, ancora auguri per la tua morte, inevitabile stasera, oddio, ma fai gli anni, tanti auguri Cecilia, sì, in effetti, potrebbe essere la scelta giusta, potrebbe assolutamente essere la scelta giusta, quindi, te lo consiglio di andarlo a vedere a questo punto, ti fai pure due risate per il giorno del tuo compleanno, e ci sta alla grande. Ultimo film, ultimo film, di cui vi vado a parlare, è La Tamarrata, ragazzi, perché, non possiamo non farci mancare, almeno una volta a settimana, una tamarrata, scorsa settimana, è toccato a Liam Neeson, con Un Uomo Tranquillo, adesso, adesso, vi cito un altro grande attore, che ormai è diventato un abitue, delle tamarrate, sto parlando tra l'altro, di uno dei miei grandi sogni, e amori, nella mia adolescenza, che tuttora mi fa venire, un lungo brivido, lungo la schiena, ancora amo alla follia, ovvero Gerard Butler, il nostro caro Gerardone, ormai più americano, che scozzese, si può quasi dire, che torna al cinema, con The Vanishing, il mistero del faro, anche qui parliamo, di un thriller, a tinte, quasi horror, che in realtà, poi si ispira, a un fatto, reale, ovvero, appunto, di, questo faro, questi, anzi, tre fari, misteriosi, all'interno, di un arcipelago, di isole, praticamente, dove a quanto pare, un po' tipo, il triangolo delle Bermuda, dove a quanto pare, la gente vede cose strane, sparisce, e, praticamente, qui, i guardiani del faro, sono chiamati, per, non mi ricordo, tre, per sei settimane, per sei settimane, quindi, sono quasi, un mese e mezzo, due, se non mi sbaglio, sono chiamati, per sei settimane, a stare lì, in questo, in questo luogo, terribilmente, buio e oscuro, dove, appunto, questi tre, giovani, trovano, una sorta di porziere, portato da un, afrogo, pieno d'oro, e, ovviamente, impazziscono, totalmente, impazziscono, per questo, questo bottino, che trovano, e iniziano a vedere, delle cose, che, li mandano, sempre più in paranoia, sempre più in paranoia, e, come potete ben immaginare, insomma, ne resterà, praticamente, solo uno, questo, un po' il senso, di tutto quanto, avete visto il trailer, pare una tamorrata, tamorrata, a livelli, a livelli, epici, poi, vabbè, vuole essere una cosa, molto ansiogena, molto ristretta, cose di questo genere, a me sembra, un po' il classico film, un po' tamarro, alla Gerard Butler, che, per carità, adoro, Gerry, però, obiettivamente, negli ultimi anni, non è che ha sfornato, poi, queste gran, queste gran perle, però, appunto, quasi sempre, enormi, blockbuster, mi sembra assurdo, che, non abbiano dato, a Gerard Butler, ancora, il ruolo, in qualche cinecomic, perché, negli ultimi anni, è diventato, realmente famoso, in questo genere, di cinema, abbastanza action, che, ormai, ha un, cioè, insomma, abbastanza riconosciuto, Gerard Butler, probabilmente, da 300 in poi, che, ha iniziato, a farsi, un vero e proprio nome, ha iniziato, a fare, sempre più, eh, pellicole, di questo, genere, Olympus, Fallen, London Fallen, no, tutta questa roba, roba di, di questo tipo, giustizia privata, giustizia privata, non mi era manco dispiaciuto, però, appunto, anche lì, parliamo di robe, abbastanza, abbastanza, pensare che io, Gerard, l'ho conosciuto, millant'anni fa, nel lontanissimo 2000, conosciuto, tra virgolette, insomma, la prima volta che l'ho visto, con, eh, uno dei film, probabilmente, più brutti, mai fatti, da Wes Craven, che era, Dracula Legacy, Dracula 2000, molto probabilmente, si chiamava una roba del genere, io, super mega, fissata, coi vampiri, ossia, ho visto, praticamente, quasi tutti i film, sui vampiri, e quindi, c'era il mio cugino, che era il mio spacciatore ufficiale, di, eh, di VX, che mi disse, ah, devi vedere questo film, devi vedere questo film, e c'era, appunto, Gerard Butler, un giovanissimo Gerard Butler, con i capelli pure lunghi, folti e arricci, che, che faceva, appunto, Dracula, che in realtà, nella versione del film, era praticamente giuda, una roba di questo genere, insomma, non era male, l'idea era pure particolare, però il film era una vaccata, a livelli allucinanti, hanno fatto pure un sequel, dove Dracula cambiava fatti, con un costruzio super ossigenato, vabbè, una roba imbarazzevole, ragazzi, insomma, imbarazzevole, poi ha alzato un attimino il tiro, diciamo, Gerard, ha fatto un po' di film, ha fatto pure, oddio, c'era un altro film, Super Iper Megatram Tamarro, con Gerard Butler, Attila, Attila il re degli unni, tipo, che non era quello di Diego Botantuono, ma ne era un altro, e Beowulf, no, il Beowulf, tutto in CGI, ma un altro ancora, vecchissimo, ha fatto un botto di film, di serie B, diciamo, proprio di serie B, Jerry, cioè, non ti offendere, ma erano veramente film di serie B, poi vabbè, dal 2004 a Fantasma dell'Opera, poi piano piano ha iniziato a capire qual era veramente il suo genere adatto a lui, e appunto continua in realtà su questa scia The Vanishing, il mistero del faro ne prova appunto. Ragazzi, se non avete nulla da dire, nient'altro da chiedermi, insomma, io direi che per questa settimana ci siamo detti praticamente tutto, e quindi vi ricordo cosa possiamo trovare da oggi al cinema, troviamo La Casa di Jack, film di Lars von Trier, film attesissimo di von Trier, in realtà ve ne avevo parlato anche a Cannes, durante il periodo di Cannes, molto violento, molto conturbante, disturbante, non un film adatto a tutti, vietatissimo ai minori di 18 anni, e che trovate anche in versione sia censurata che non censurata, sinceramente non so come le sale saranno divise, non mi sono informata su quante copie, io credo sinceramente che saranno più copie quelle censurate di quelle non censurate, tra l'altro il genere che viene definito qua drammatico horror thriller, un mappazzone di roba, comunque se vi piace von Trier io vi consiglio, o comunque il cinema di questo tipo io vi consiglio di andarlo a vedere, poi altro film totalmente diverso, andiamo sull'animazione, e i films effetto nostalgia, Dragon Ball Super, brah liiii, quindi anche quello, molto bello, poi appunto effetto nostalgia alla grande, nuova avventura per Dragon Ball, potete andarlo a vedere, anche se non avete visto l'ultima serie, appunto non avete seguito Dragon Ball Super, potete andarlo a vedere tranquillamente, una sorta di origin story, combattimenti molto fighi, animazione veramente super, super trop, top, un pochino troppe battutine, top, troppe, troppe, troppe battutine, poi abbiamo ancora auguri per la tua morte, sequel di auguri per la tua morte, questa commedia horror, un po' in stile il giorno della marmotta, con Jessica Rote, la protagonista che è veramente super brava, veramente super fica, secondo me potrebbe riservarci qualche sorpresa, insomma, e infine abbiamo detto The Vanishing, Il mistero del faro, con Gerard Butler, questo thriller un po' action, che insomma, si prospetta essere la solita tamarrata, ma magari mi sbaglio, ma magari anche no, se vi piace appunto Keepers, questi titoli che cambiano in una maniera assurda, Keepers, tratto tra l'altro, come vi dicevo, una storia vera, perché sti cazzo di fari, dove la gente scompare, o vede cose assurde, esistono veramente, è molto in stile il triangolo delle bermuda, sarà vero o non sarà vero, la realtà è che ci cagliamo tutti sotto, per andare a constatare con i nostri occhi, quindi, giustamente come dico sempre, il beneficio del dubbio, io rimango così tranquilla, non mi va ad indagare, cioè come se, come se, come se avessi accentato, Cecilia dice sta censura, sì che è rottura di coca, non ha senso, non ha assolutamente senso, semplicemente non lo vai a vedere, o si sconsiglia la visione a un pubblico sensibile, anche perché io dubito fortemente, che anche il tipo di locandina, è molto inquietante, quindi dubito che le persone, andrebbero a vedere la casa di Jack, a cuor leggero così, cioè amore cosa vediamo stasera, oh questo la casa di Jack, mi sembra un film molto carino e romantico, no assolutamente no, cioè lui tutto brutto, scuro, un po' giallo, con il sangue schizzato in faccia, la gente se ne ha, non vado a portare mio figlio, cioè insomma oddio, Lars von Trier è un buon modo, un buon modo per svezzare i propri bambini, ma magari no, ecco, ma magari questo non è il film più appropriato, per svezzare un bimbetto, io sono un caso atipico, quindi mio nonno mi faceva vedere a sei anni, Carpenter è invece della Sirenetta, però questo è tutt'altro paglio di maniche, di cose, insomma, i risultati si sono visti, perciò, meglio di no appunto, la censura, non ha ragione di esistere con questi film, che si censurano da soli, voglio dire, basta poi appunto, vi date minori, si sconsiglia un pubblico sensibile, e buonanotte, ciao Dark Vampire, tu arrivi proprio, mentre noi siamo, indirittura da vi, d'arrivo, stiamo chiudendo, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me, tra l'altro scusatemi, se abbiamo avuto qualche problemino all'inizio, dispiace moltissimo, se non ho risposto, se mi avevate scritto prima, non so perché oggi la dashboard dava, l'anteprima dava qualche problema, I'm so sorry, I'm so sorry, noi ci vediamo martedì, con Binge Stream, con il nostro solito Binge Stream, non so ancora di quale serie vi parlerò, ci sto pensando, ci sto pensando, quindi vi ricordo tutti i nostri appuntamenti, il martedì con Binge Stream, il mercoledì con Anteprima Live, tutte e due alle 17, e questo mercoledì parliamo di un film molto molto atteso, un film che vedrò lunedì, un film che anticipa Endgame, un film in cui abbiamo una supereroina donna, per la prima volta un film tutto dedicato a una supereroina, avete capito di che film parleremo, quindi belli carichi mercoledì alle 17, perché insomma abbiamo un bel film, forse un bel film, abbiamo un film potente di cui parlare, è probabilmente arrivato anche il Corriere, non so se avete sentito lo squillo, e giovedì, come al solito, il nostro Popcore Time, io vi ringrazio come sempre per essere stati con me, ci vediamo a una prossima, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando Gabriella, usa il mouse giusto, mi raccomando andate al cinema, ciao! grazie a tutti! Grazie.